buongiorno a tutti benvenuti al nostro seminario in collaborazione realizzato in collaborazione apprezzata collaborazione con la agenzia delle dogane l'ufficio di parma e ringrazio tutti quelli che sono che stanno intervenendo stanno partecipando sappiamo che sono molto numerosi online ringrazio anche i rappresentanti delle aziende che sono presenti qui presso la sede della camera di commercio di parma nel centro agroalimentare che sapete è la nuova sede della della nostra borsa merci e che utilizziamo anche utilizzeremo sempre più spesso per i nostri seminari i nostri eventi in presenza l'incontro di oggi è destinato rivolto alle imprese che operano con l'estero in particolare alle imprese che svolgono operazioni di importazione ed è dedicato appunto ad approfondire un aspetto molto molto importante della operatività aziendale cioè quella legata alle novità che ci sono state molto molto significative nella gestione delle dichiarazioni di importazione la camera di commercio sapete è da tantissimi anni che dedica un'attenzione costante e speciale alle allo sviluppo delle del sistema imprenditoriale proprio sotto l'aspetto della internazionalizzazione e dobbiamo dire che parma è un territorio molto molto recettivo da questo punto di vista i dati più recenti per quanto riguarda proprio l'internazionalizzazione delle imprese dicono che ci sono state delle performance straordinarie nel 21 di Parma rispetto alle altre province dell'Emilia Romagna rispetto anche alle altre territori italiani sia per quanto riguarda le esportazioni che hanno segnato lo scorso anno un più 28% rispetto a un 15% di aumento a livello regionale parliamo di una regione ovviamente come l'Emilia Romagna quindi estremamente performante dal punto di vista delle esportazioni ma anche le importazioni hanno avuto una dinamica straordinaria lo scorso anno quasi il 40% in più rispetto all'anno precedente quindi questo è un territorio veramente molto molto dinamico da questo punto di vista e naturalmente le nostre imprese meritano tutta l'attenzione per quanto riguarda sia l'aspetto della promozione ma sia anche l'aspetto cui ci dedichiamo oggi grazie alla collaborazione ormai consolidata da tanti anni con l'ufficio delle dogane di Parma dedicato appunto ad approfondire gli aspetti tecnici degli adempimenti doganali che sono evidentemente essenziali per una gestione efficace e performante di questa attività fondamentale quindi ringrazio l'ufficio delle dogane di Parma il direttore il dottor Giuseppe Condina qui passerò immediatamente la parola e ringrazio il nostro relatore principale che il dottor Simone Dal Nevo che è un doganalista probabilmente lo conoscete da tanti anni opera a Parma molto conosciuto e molto molto apprezzato dalle aziende e anche dalla Camera di Commercio con cui ha collaborato molte altre volte. Per cui detto questo ecco vi ricordo una cosa per quanto riguarda i quesiti che avete eventualmente necessità di porre per chi è online utilizzate cortesemente la sezione domande e risposte ok mentre per quanto riguarda le persone qua presenti ricordatevi che ai fini della registrazione e al fine e affinché possano sentirvi le persone collegate dovete cortesemente chiedere il microfono prima di rivolgere la domanda ok grazie mille e la parola al dottor Condina va bene buongiorno a tutti e grazie alla Camera di Commercio di Parma grazie a quanti si sono collegati e soprattutto grazie ai presenti e l'amico Simone con cui ci ritroviamo in un tandem diciamo quasi consolidato in queste attività quando abbiamo scelto diciamo l'argomento abbiamo pensato un modo per approcciare diciamo che abbia sicuramente un taglio pratico perché dobbiamo necessità di rispondere a quelle che sono diciamo le notizie a quelle che sono i problemi a trovare la soluzione per poter entrare in questo nuovo mondo a me che rappresento diciamo oggi la dogana l'ufficio delle dogane di Parma che vuole essere vicino alle proprie aziende no questa è un'iniziativa che nasce anche da una vera e propria convenzione che abbiamo con la Camera di Commercio di Parma ma che ha lo scopo di farci conoscere o farci riconoscere perché sicuramente dal mio punto di vista diciamo io che ho la responsabilità diciamo dei controlli ma mi sento molto la responsabilità delle aziende che devono approcciare a questo mondo e quindi credo che nella nostra mission ci sia proprio questo farci riconoscere per questo metterci a disposizione di chi necessariamente giustamente e fortunatamente in questo periodo ha necessità diciamo di approvvigionarsi fuori dall'Unione Europea o meglio ancora a portare la propria merce fuori dai confini dell'Unione Europea allora a me il compito anche cercare di farvi capire di capire insieme a voi ma soprattutto che quello a cui ci stiamo approcciando passatemi il termine non è l'ennesima cambiamento non è un adempimento ulteriore non è una come dire rivisitazione di in chiave proprio di come dire spremitura del contribuente questo oggi rappresenta altro che l'applicazione di una norma europea noi ricordiamoci che quando ci approcciamo alle tematiche doganali ci approcciamo a delle tematiche che hanno delle norme che valgono per tutti i paesi dell'Unione Europea e questo è un aspetto che spesso ci come dire ci sfugge volontariamente involontariamente io questo non lo capisco però penso che sia importante avere presente che quello che è l'opportunità quella che è la semplificazione a cui noi non intendiamo avvicinarci e qua mi pongo il problema che anche noi dobbiamo fare questo è un modo per fare un passo avanti verso tutti gli operatori per fare un passo avanti presso diciamo la Camera di Commercio che credo che sia la sede naturale di incontro delle aziende che hanno necessità di associarsi proprio per dare questa possibilità di farci conoscere e perché una semplificazione un sistema come dire più conosciuto ci consente di diventare molto più come dire competitivi laddove soprattutto quelle che sono le semplificazioni che noi per un atteggiamento per una prassi per un si fatto sempre così diciamo tante volte lasciamo andare e poi non ci spieghiamo come mai il nostro competitor francese polacco per carità svedese riesca a arrivare con un prodotto meno conosciuto o qualitativamente inferiore molto prima e molto meglio di noi detto questo fatta questa introduzione io appunto ecco quindi quando noi oggi naturalmente io immagino dicevo prima l'aspetto che qua sicuramente vi ha richiamato è la necessità di dover registrare un documento che non che insomma è completamente cambiato noi siamo abituati a riconoscere la bolletta doganale come una fattura di acquisto perché di fatto nel momento in cui noi diciamo facciamo entrare una merce da un territorio extra doganale abbiamo bisogno di assolvere le formalità doganali da un punto di vista aziendale e della contabilità semplice delle aziende quella bolletta doganale diventa la nostra fattura di acquisto quindi io credo che questo sia diciamo il motivo per cui abbiamo tanto interesse nel senso che effettivamente è completamente cambiato l'approccio a quello che era la fattura la fattura o quantomeno la bolletta doganale per cui l'abbiamo diciamo pensata e l'abbiamo conosciuta e ce l'hanno insegnata e quello che io vi volevo dire è qual è che praticamente questo siamo passati abbiamo finalmente sapete che il nostro nuovo sistema delle regole doganali si basa sempre su dei regolamenti comunitari abbiamo il nostro codice doganale il regolamento 952 del 2013 che è entrato in vigore nel 2016 ma che ancora non è stato pienamente diciamo applicato c'è stato c'è una vera e propria roadmap di applicazione di tutta una serie di parti del codice e questa quindi la completa digitalizzazione della bolletta doganale quindi l'invio di dati è proprio rientra in uno dei principi fondamentali del nuovo codice è proprio l'articolo 6 del codice che prevede che tutti gli scambi di informazioni dichiarazioni richieste decisioni sia tra autorità doganali ma anche tra operatori economici e autorità doganali venga fatta esclusivamente mediante procedimenti informatici io quando sono entrato in dogana c'era il foglio di carta chimica con 7 copie a secondo del tipo di operazione che si andava a fare si utilizzavano i primi 3 4 e 5 6 e 7 e poi si davano e quindi c'erano i timbri noi tutti noi funzionari doganali quando siamo entrati in dogana avevamo un timbro personale quindi con un numero di 4 cifre che mi identificava all'interno di tutti diciamo il territorio nazionale quindi il 50 87 era quello mio poi praticamente questi timbri ce l'hanno a noi quelli personali ce l'hanno ritirati oggi praticamente trovare un timbro sulla bolletta è una cosa abbastanza diciamo rara ma perché perché noi siamo entrati in un meccanismo per cui la bolletta altro non è oggi che è un flusso di dati quindi non abbiamo scelto di digitalizzare il di scannerizzare rendere digitale un documento cartaceo che poi l'altra fase qual è stata facciamo lo scannerizzazione del documento cartaceo quindi quella era un'altra fase ma oggi invece noi abbiamo un flusso di dati che acquisisce la diciamo la la forza acquisisce diciamo la forma della bolletta tocanale è quella la dichiarazione con cui il chi attraversa il confine dell'Unione Europea intende diciamo porre in essere le sue diciamo assolvere le sue formalità tocanali questo diciamo cambiamento è un cambiamento oggi noi parliamo quando ormai il sistema H perché sicuramente tutti sapete che la bolletta ormai non si chiama col sistema IM abbiamo un sistema H il sistema H quindi questo dell'import perché abbiamo iniziato dall'import è ormai diventato obbligatorio dal 30 novembre fino al 30 novembre anche per una serie di problemi che abbiamo avuto tecnici abbiamo per un certo periodo avuto il doppio binario per cui si potevano utilizzare sia il sistema H che il sistema IM dal 30 novembre invece obbligatoriamente tutte le bollette vengono diciamo transitano con questo sistema H questo sistema è soltanto il primo step è già partito l'altro step che coinvolgerà la parte degli altri regimi tocanali cioè del transito e soprattutto dell'esportazione quindi ora anche qua inizieremo con un periodo in cui è possibile utilizzare un cosiddetto ambiente di prova poi avremo la possibilità di operare col nuovo sistema digitalizzato diciamo dell'export fino a quando poi anche quello diventerà l'unico sistema con cui opereremo ma vi ripeto questa non è una volontà della dogana di Parma dell'Emilia Romagna italiana è una volontà del codice quindi avremo tutti questo nuovo sistema quindi cercherò diciamo anche di darvi delle informazioni cioè perché io capisco la pratica però mi piacerebbe che riuscissimo ad arrivare a quello che è il senso di quello che facciamo quindi questo vi ripeto non è una questione di organizzazione non è una questione di dogana 4.0 non è una questione di implementazione di sistemi è proprio una diciamo attuazione del nuovo codice attuazione delle nuove norme che dobbiamo realizzare quindi abbiamo quindi passiamo dal sistema in dal sistema in al sistema H le sigle naturalmente identificano il regime quindi la bolletta doganale non troverete più IM4 ma troverete H1 e questo sistema naturalmente ecco ma questo vale anche per noi noi ci siamo trovati davanti a un mondo completamente diverso perché i dati noi come li vedevate voi in maniera la sintesi della bolletta cioè la sintesi di un percorso di importazione era la bolletta la bolletta con i vari campi dove io andavo a vedere quello che era il valore andavo a vedere la liquidazione dei diritti andavo a vedere il cespite del Dazio piuttosto che il cespite dell'IVA questo meccanismo si è completamente stravolto e quindi praticamente ora ci troviamo un sistema diverso un sistema quindi completamente questo flusso di dati che vengono processati H1 quindi sono le bollette di importazione piuttosto che di uso finale H2 sono le bollette di introduzione nel deposito canale H3 l'ammissione temporanea poi abbiamo l'H4 che sono i regimi del perfezionamento H5 vabbè H6 sono già dei casi molto più specifici l'aspetto che vi voglio dire è qual è quindi sicuramente ecco un aspetto importante qual è la bolletta do canale prima poteva portare solo 39 singoli e avevamo un'unica possibilità cioè avevamo un codice di svincolo unico questo cosa voleva dire voleva dire che se avevo un problema su un codice di svincolo su un item su un singolo scusate della bolletta da un punto di vista tecnico si parlava di singolo una bolletta anche che avesse avuto 5 singoli piuttosto che massimo 39 non di più se avesse avuto un problema su un singolo io avevo difficoltà a svincolare tutta la la bolletta quindi non riusciva a svincolare la bolletta perché aveva un sistema che non era adeguato al nuovo al codice perché il codice dice che ogni singolo è una bolletta doganale quindi una bolletta con 39 singoli di fatto conta come 39 bollette ma io avevo una diciamo una strozzatura avevo questo collo di bottiglia perché praticamente il sistema mi creava o non mi creava il codice di svincolo per tutti 39 oggi questo sistema ha passato da 39 a 999 singoli quindi dicevamo prima parlavamo con Simone che ci sono delle aziende che hanno esigenza per esempio di sdoganare un intero container di merce che arriva da più diciamo da più soggetti oggi loro riescono a fare una bolletta laddove prima ne dovevano fare 20 ne dovevano fare 15 riescono ad arrivare a 999 singoli quindi riescono a come dire il sistema i sistemi di contabilità interna diciamo non hanno si dovevano prima adeguare a quello che era il limite della bolletta doganale perché sicuramente se tu hai in arrivo e quindi riesci a processare i flussi di n prodotti che acquistavi dovendo questi prodotti essere classificati secondo delle tariffe doganali io più di 39 non ne potevo fare oggi invece con questo diciamo limite che insomma non è un limite anzi diciamo rappresenta diciamo un numero io per fortuna in questo momento ho anche la responsabilità dell'ufficio di Piacenza ufficio di Piacenza che facciamo molte più bollette però vi assicuro arriviamo a 350 400 singoli ma ancora a 999 per fortuna non siamo arrivati l'aspetto diciamo come dire quindi al di là di quelli che sono i formati che sicuramente danno che spiegano danno la possibilità diciamo di raggiungere questo numero singoli l'altro aspetto molto importante e sul quale devo dire la verità non c'è molta conoscenza e c'è anche un'interpretazione un po' come dire un po' restrittiva qual è è che quindi non solo faccio fare una bolletta con 999 singoli ma do la possibilità di chiedere lo svincolo per i singoli per vari singoli cosa vuol dire quindi ho una bolletta con 10 singoli posso chiedere uno svincolo per tutta la merce ma posso chiedere uno svincolo per ogni per ogni singolo questo perché pensate ci sono dei casi noi purtroppo li vediamo abbiamo dei sistemi di controllo che sono dei sistemi di controllo diciamo legati a delle a dei parametri no dei parametri chiamateli di rischio chiamateli come volete per cui naturalmente ci sono dei prodotti che più degli altri sono soggetti a dei controlli però se io ho un sistema con 5 singoli con 10 singoli e so che c'è un prodotto particolarmente sensibile perché nella mia tradizione ho una serie di controlli su quel prodotto io con questo sistema io ho la merce ferma soggetta a controllo per quel singolo ma potrei avere tranquillamente la bolletta svincolata per tutti gli altri singoli e questo naturalmente si come dire si acuisce si percepisce in maniera più diretta quando facciamo dei controlli come stanno facendo in questo periodo di prelievo dei campioni per fare delle analisi abbiamo un progetto sempre con la comunità per cui stiamo facendo dei controlli su determinati tipi di prodotti per andare a capire se ci sono se vengono usati dei metalli particolari o quantomeno che siano rispettate quelle che sono le diciamo quantità diciamo ammesse di quei prodotti in un'attività del genere per cui dobbiamo prelevare la merce di un campione di un singolo vi ripeto ma queste sono diciamo come dire attività che sono bene o male conosciute all'operatore un sistema di questo genere fa sì che io fermi la merce che faccia il prelievo dei campioni di quel singolo ma che tranquillamente io e gli altri 998 singoli possano essere tranquillamente diciamo essere arrivare all'operatore senza nessun problema perché io capisco diciamo che come diciamo trattenere la merce fermare la merce è diciamo sicuramente crea dei problemi detto questo detto questo quindi la bolletta ormai non la troverete più con quella serie numerica R4 R5 R2 con un numero più o meno lungo a secondo di quante bollette si fanno perché è una numerazione bimestrale ed un codice CIN ma praticamente viene identificata con un MRN master reference number quello che oggi siamo abituati a vedere con le bollette anche di export oggi praticamente sarà quello identificativo della bolletta quindi fatto sta a un certo punto ci siamo posti il problema di come la norma comunitaria e quindi prevede questo meccanismo è un meccanismo analogo lo prevederà ve lo anticipo per il transito lo prevederà per le bollette di esportazione aveva bisogno di trovare una sintesi che praticamente ci consentisse di conciliare questo sistema quindi questa dematerializzazione della bolletta doganale intesa appunto come un flusso di dati con quello che è l'esigenza della contabilizzazione della bolletta doganale perché la bolletta doganale abbiamo detto prima altro non è che la nostra fattura d'acquisto quindi il nostro fornitore giapponese cinese americano piuttosto che albanese quindi io non mi posso registrare in contabilità mi devo registrare in contabilità come costo la fattura ma a livello di IVA non mi posso registrare la fattura del soggetto che stravua necessariamente devo registrarmi la bolletta doganale in un sistema quindi nel vecchio sistema una copia della bolletta che era destinata all'importatore era diventava la fattura per cui eravamo abituati a vedere quella bolletta e quindi a registrarci quella fattura individuando le varie partite come dicevo il Dazio piuttosto che il IVA quindi quella era un'attività di controllo che serviva anche a verificare che effettivamente non ci fossero stati dei problemi non ci fossero state delle inversioni non ci fossero state degli errori nella fatturazione che non abbia preso i dollari per gli euro piuttosto che gli 8.000 non fossero diventati 80.000 e quant'altro quindi c'era anche questa opera e quindi abbiamo oggi un sistema completamente diverso anche qua gli amici delle software house hanno cercato per un certo periodo comunque di trasferire voi vi siete trovati sicuramente con le prime bollette di questo nuovo sistema H con la vecchia bolletta perché praticamente per creare una continuità in un primo tempo le software house lo dico perché questa era una cosa che capitava pure a noi pure noi all'inizio avevamo questa resistenza e chiedevamo di farci vedere la bolletta no riuscivano a creare la vecchia bolletta naturalmente la vecchia bolletta non ha senso proprio perché non si entra mai nel meccanismo nuovo io capisco che non sia semplice capisco che sia abbiamo delle difficoltà però il nuovo sistema quindi è quello che bisogna utilizzare perché se no si fa sempre un passaggio mentale di più un passaggio mentale inutile e non si va a cogliere quelli che sono gli elementi del nuovo sistema detto questo naturalmente la nostra esigenza qual è? è quella di sintetizzare una norma comunitaria con quelle che sono le esigenze nazionali quindi siamo passati dobbiamo diciamo come dire sintetizzare il codice il codice doganale unionale con quelle che sono le norme nazionali mi riferisco all'articolo 25 della legge IVA del DPR 633-72 che praticamente ci dice che noi ci dobbiamo registrare la bolletta doganale per cui non essendo la bolletta doganale più un documento ma essendo questo flusso di dati abbiamo pensato di creare un documento di sintesi ma proprio ai fini diciamo perché abbia valore della di fattura passatemi il termine questo sarà il documento di sintesi che voi vi troverete e vi troverete e dovete necessariamente registrarvi come registravate la bolletta doganale questo documento di sintesi che sicuramente è un'esperienza italiana perché ogni stato poi avrà il suo sistema ha delle regole e praticamente abbiamo pensato hanno pensato di creare un sistema dove ognuno di noi va e recupera questo documento di sintesi quindi questo documento di sintesi non è quello che normalmente viene messo a disposizione dal dallo spedizioniere ma è quello che arriva direttamente nel cassetto doganale dove praticamente andiamo a lo troviamo e andiamo a reperirlo quindi quello che è l'aspetto quindi che qua cercheremo di illustrare questo diciamo è un compito che lascio bene al buon Simone ma vi volevo diciamo come dire raccontare questo antefatto per dirvi che noi nasciamo quindi da una non è un capriccio di nessuno è una norma unionale è una norma che trova la sua attuazione finalmente di questa diciamo di questo sistema che si basa sullo scambio dei dati che necessariamente deve avvenire in maniera informatica e la sintesi tra la norma unionale e la norma nazionale che ci dice che ci obbliga a registrarci la bolletta doganale è stata trovata in questo documento in questa contabile dove praticamente troviamo quelli che sono il questo si chiama il riepilogo ai fini contabile della dichiarazione doganale di importazione quindi questo è quello che voi vi troverete ma questo lo troverete non perché ve lo dà lo spedizioniere cioè lui ve lo può dare ma ve lo troverete direttamente nel cassetto doganale ognuno si troverà il suo con questo nuovo sistema anche qua è un sistema che poi sulla nostra pelle di cittadini abbiamo trovato tramite lo speed riusciamo ad entrare riusciamo praticamente a prendere quello che ci serve quindi ci rendiamo autonomi in questo poi sicuramente il sistema è un sistema come dire migliorabile perfettibile queste sono delle difficoltà io lo riconosco ahimè le conosco le difficoltà che viviamo pure noi perché comunque pensate che noi per un certo periodo dobbiamo guardare tre sistemi sistema vecchio il sistema nuovo il sistema dell'ex ora avremo anche il sistema nuovo quindi anche noi facciamo fatica e questo per spiegarvi perché siamo arrivati a questo ora il buon Simone lascio a lui la parola per capire poi nella pratica diciamo trovare le soluzioni più giuste intanto buon pomeriggio a tutti intanto sistemiamo un attimo il pc per poter far vedere magari anche qualche slide intanto io inizio a chiacchierare con voi l'idea è stata proprio quella di parlarvi di questo nuovo cassetto doganale qualcuno di voi forse è già entrato qualcuno deve ancora entrare avete capito comunque siete parte di una rivoluzione doganale che vi ha interessato direttamente quindi noi stiamo parlando di una bolla doganale come ha già anticipato l'amico Giuseppe che è cambiata ha cambiato tantissimo non vedete più queste bolle doganali non avete più quel format di 54 caselle che contraddistingueva le vecchie bolle doganali avete oggi dei moduli completamente diversi bisogna imparare a leggerli ma soprattutto dovremmo imparare a trovarli quindi il cassetto doganale sarà la vostra caccia al tesoro dei prossimi mesi qualcuno di voi è già entrato poi mi direte chi è già dentro chi è entrato con o senza difficoltà o chi deve ancora entrare sicuramente però il futuro di tutti voi è dentro il cassetto doganale credo che il dialogo con l'agenzia del dogane futuro passerà solo tramite il cassetto doganale oggi è import domani è export domani ben capito che in parte anche già oggi perché l'ambiente di prova è già avviato quindi io credo che nessuna azienda che aveva relazioni con l'estero possa chiamarsi fuori da questo cassetto doganale penso che mai sia inevitabile per tutti voi oggi quindi parliamo principalmente di import perché import è già attualità anzi forse è già passato perché se vogliamo il gioco è partito il 9 giugno scorso in un sistema che forse non ha funzionato brillantemente nei primi mesi ma che dal 30 novembre scorso mai dovrebbe essere veramente a pieno regime quindi mi aspetto che tutti voi siate già dentro o avete già provato ad entrare in questo cassetto doganale per entrare nel cassetto doganale come si fa? ovviamente bisogna andare nel portale dell'agenzia del dogane e il primo accesso è di esclusiva pertinenza del legale rappresentante solo il legale rappresentante può fare il primo accesso col suo speed personale la CNS o la CIA che sono le uniche chiavi d'accesso per accedere a questo cassetto doganale lui entra e poi decide se vuole continuare a essere lui il gestore di questo cassetto doganale oppure se vuole delegare un qualsiasi impiegato o chiunque sia di sua fiducia che verrà appunto delegato all'interno del cassetto doganale come persona preposta ad accedere a questi dati doganali chi vuole essere un responsabile amministrativo può essere un impiegato può essere quello che il legale rappresentante reputerà la persona giusta per fare questo gioco altrimenti ogni volta che accedete bisogna scomodare il legale rappresentante con il suo speed personale quindi questo può essere un gioco poco divertente per un legale rappresentante mediamente in altre faccende affaccendato perché credo che non sia sempre disponibile per darvi l'ok per l'accesso al cassetto doganale quindi non valgono dico subito le credenziali che usate per l'intrastat per qualcuno intanto diceva io sono già logato con l'agenzia doganale faccio già l'invio dell'intra ho già le mie credenziali entro con quelle trovo tutto no non è questo lo strumento di accesso qui dovete ripartire da zero vi badisco entrare nel cassetto doganale con lo speed del legale rappresentante solo lui e poi sarete forse voi volontari siete qua non so se siete volontari o meno comunque qualcuno poi deve fare questo gioco quotidianamente dipende dal numero di import che fate ovviamente perché ogni bolla doganale abbiamo le offerte speciali dell'agenzia dogane una bolla doganale tre documenti troverete nel cassetto doganale avete capito c'è un documento di sintesi della bolla doganale un documento di fini contabili e un documento di svincolo quindi in realtà il finale se partiamo dal finale della storia che per ogni bolla doganale rintraccerete tre documenti potenzialmente tutti e tre con una finalità diversa ma tutti e tre documenti utili tutti e tre da dover scaricare dal portale possiamo anticipare questo è chiaro che noi perché serve la bolla doganale come diceva anche Giuseppe perché di fatto noi in dogana avremo forse da pagare un dazio ma avremo sicuramente da versare un IVA qualcuno potrebbe dirmi io sono un esportatore abituale uso il plafon l'IVA non la verso non cambia nulla l'assolvi in maniera diversa ma l'IVA comunque è un tributo che viene liquidato in bolla doganale quindi mi serve comunque la bolla doganale anche per dar scarico con la mia dichiarazione di intento quindi che siate o non siate esportatori abituali l'IVA in dogana va assolta e vi serve il documento che giustifichi questo versamento cash se parliamo di un IVA assolta versando proprio monetariamente il tutto o con la dichiarazione di intento questo perché perché una volta versata l'IVA ovviamente l'IVA in dogana è un IVA credito per portarsi in detrazione l'IVA dovete registrare questa bolla doganale nei vostri registri IVA nel registro IVA acquisti e il documento che ieri registravamo era la copia che ci dava lo spedizioniere noi da sempre penso che quando facevate impor aspettavate la bolla doganale in copia dello spedizioniere documento che era assolutamente validissimo per fare la registrazione in finiva avete sempre registrato quello tutto molto pacifico oggi è cambiato tutto lo spedizioniere potrebbe forse darvi una copia di cortesia anzi sono sicuro che vi darà una copia di cortesia anche perché senza la copia di cortesia lo spedizioniere fate poca strada dentro il cassetto doganale questo è poi la realtà pratica che cercherò di raccontarvi perché non so che chi non è ancora entrato nel cassetto doganale cosa stia sognando dentro quel cassetto doganale qualcuno sogna anche troppo perché magari uno pensa di entrare e vedere tutta la sua situazione in tempo reale con tutte le sue bolle doganali disponibili in automatico non è così bello il cassetto doganale bisogna andarsela a cercare le bolle doganali e queste bolle doganali si cercheranno vedremo con due strumenti solo due l'mrn puntuale di ogni bolle doganale quel master reference number che contraddistingue la bolle doganale se ce l'ho entro nel cassetto doganale e mi appaiono quei tre stampati che vi stavo raccontando se non ho l'mrn non vedo nulla e allora per cercare la bolle doganale potrò farlo con un altro strumento che è la ricerca sull'agenzia delle dogane sull'ufficio delle dogane che ha emesso la bolla doganale però devo sapere se la merce è entrata alla Spezia a Genova a Malpensa piuttosto che in altro angolo di Italia adesso parliamo di Italia per un attimo e quindi se non so dove è entrata la merce è una ricerca che vi fa perdere un sacco di tempo anche perché dicevamo lo strumento è perfettibile sì io ad esempio una critica che potrei avanzare è che la ricerca per dogana fa fare di tre giorni in tre giorni quindi potrei guardarmi le bolle doganale dal 7 marzo al 4 marzo sulle dogane della Spezia che mi appartengono non le trovo da fare dal 4 marzo al 1 marzo una seconda ricerca e via via finché non trovo i documenti di mio interesse questo ovviamente fa perdere un sacco di tempo allora è molto meglio avere l'MRN è molto meglio avere l'MRN puntuale che lo spedizioniere mi ha comunicato per quella bolla doganale che sto in quel momento cercando quindi voi senza la copia di cortesia fate poca strada dentro il cassetto doganale siccome questa è la realtà vera quindi avete bisogno ancora dello spedizioniere avete bisogno ancora che vi dia una copia di questa benedetta bolla doganale sennò il gioco diventa veramente molto complesso molte aziende mi segnalano già un problema pratico ve lo dico subito diceva giustamente Giuseppe che il numero che contrasingue la bolla doganale non è più quel CIN molto stringato se vogliamo non era un numero particolarmente lungo l'MRN oggi è un numero molto più impegnativo proprio come stringa di numeri e molti gestionali di registrazione finiva non riescono a contenere l'MRN questo ve lo dico perché qualcuno l'avrà già vissuto sulla sua pelle quel codice di 18 cifre che contraddistingue il nuovo MRN in alcuni registri IVA non ci sta e quindi molte aziende sono in crisi dico come la registro la bolla doganale taglio davanti taglio dietro il numero dove lo taglio e secondo me dovete aggiornare i gestionali il numero non è in teoria tagliabile perché un numero univoco è lui non può essere altro che lui quindi qualcuno è già in difficoltà anche su questa banalità se vogliamo definirla tale però dovete adeguare i vostri sistemi anche a questo perché la bolla doganale la registrerete nel registro IVA acquisti come bolla doganale numero MRN con tutte le sue 18 cifre che lo contraddistinguono ora io non so dal punto di vista dell'accesso a cassetto doganale se avete delle difficoltà se volete poi possiamo anche dare in pasto una procedura che è stata elaborata da Confindustria a livello nazionale una procedura che può aiutare i neofiti chi non è mai entrato in un cassetto doganale ci sono delle videate che vi possono permettere di dire clicca lì clicca 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 guida passo passo in questo primo accesso perché il primo accesso onestamente non è intuitivo non è per tutti io vi assicuro che ho conosciuto aziende che dal 30 novembre stanno ancora navigando nel cassetto doganale alla ricerca delle loro bolle doganali perché non è proprio per tutti chi è bravo informaticamente se la cava veramente con molta facilità chi non ha esperienza può davvero fare incontrare difficoltà oggettive la procedura se volete poi ve la possiamo anche mostrare quindi non so se il pc intanto è pronto grazie allora mi sposto sperando di non creare problemi allora adesso prendo il comando scusate anche con il mouse scusate sto facendo volare tutto ok allora va bene dicevo poi vi faccio vedere anche la procedura questo ce l'abbiamo quindi vi può vi può guidare in qualche modo però tutto il gioco è nato con questa circolare del numero 22 del 6 giugno che ha fatto decorrere il gioco dal 9 giugno scorso quindi voi inseguite bolle doganali contraddistinte dalla sigla H come dicevamo H1 per limpo definitiva dal 9 giugno scorso in un sistema che ha funzionato e non funzionato per cui dal 9 giugno al 30 novembre hanno convissuto vecchie bolle doganali e nuove bolle doganali quindi qualche bolle doganale in quel semestre 2022 è ancora fatta con i vecchi tracciati IM dal 30 novembre invece dovreste vivere solo bolle doganali nuove dalle ore 9 della mattina al 30 novembre la comunicazione ufficiale è che funzionano solo i nuovi tracciati record quindi dovreste avere iniziato già da tempo secondo me la caccia al tesoro se qualcuno non avesse ancora registrato le bolle doganali dell'anno scorso è un grosso problema no perché per voi è un IVA credito e l'IVA credito lo Stato mi dice fai pure con calma registrarla è un anno di tempo per registrartela quindi se non l'aveste ancora registrato è poco male però cosa può essere successo realmente in azienda in azienda può essere successo che io le devo ancora cercare cerchiamole io non le aspetterei oltre perché aspettare ancora dei mesi va tutto a vostro dando non cercarle qualcuno potrebbe dire ma io continuo a registrare le bolle doganali che mi dà lo spedizioniere ma cosa mi dà lo spedizioniere mi dà una coppia di cortesia o non mi dà una coppia di cortesia se è una coppia di cortesia faccio un po' fatica ad accettare che sia il documento valido ai fini fiscali perché se dobbiamo entrare nell'ordine di idee che la bolle doganali nuova è un XML nasce come XML nasce secondo la filosofia della fatturazione elettronica quindi anche nelle fatturazioni elettroniche lasciando perdere un attimo le bolle doganali si mandano le coppie di cortesia non è la coppia di cortesia al documento che si registra e finiva è l'XML che trovo nello SD fondamentalmente e qui la logica non è dissimile nel senso che quando il doganalista lo spedizioniere flussa come dicono tecnicamente la bolla doganale in dogana è un XML è un file adesso a tutti gli effetti un flusso di dati come dicevamo e io azienda importatrice dovrei ritrovarmi questa bolla doganale nel cassetto doganale qualcuno potrebbe obiettarmi dicendo sì ma io allora voglio un XML quando vado nel cassetto doganale non lo trovo l'XML io trovo dei PDF perché i tre documenti che vi citavo documento di sintesi della bolla doganale documento di fini contabili del codice di svincolo sono dei gran PDF ma allora dov'è l'XML c'è nel cassetto doganale c'è difficilissimo da trovare difficilissimo da scaricare ma allora mi posso scaricare il PDF sì anzi questo è un servizio che secondo me l'agenzia dogane ci ha fatto di darci in pasto un PDF che è molto più gestibile perché l'XML è illeggibile ricordiamoci che l'XML è un leggibile già facciamo fatica a leggere un XML di una fattura figuriamoci una bolla doganale che ha molti più dati di una fattura di una banale fattura nel rapporto clienti-fornitori per cui quel PDF che noi andiamo a scaricare vale come XML? la risposta è sì perché l'agenzia dogane che ce lo sta convertendo ufficialmente da XML in PDF quindi un documento ufficialissimo ok? quindi lo possiamo scaricare sì allora qualcuno potrebbe dirmi ma se lo spedizioniere mi desse quella copia va bene o non va bene? e qui entriamo in un campo secondo me minato perché fin tanto che io aziendalmente vado nel mio cassetto doganale mi scarico il mio PDF io so che l'ho scaricato ufficialmente dal cassetto doganale so che è una sicura conversione in un XML in un PDF che mi sta garantendo l'agenzia del dogane quello che mi dà lo spedizioniere che cos'è? non lo so potrebbe essere un dato estratto dal cassetto doganale e allora ha la stessa valenza di quello che mi scarico io in autonomia dal cassetto doganale è una banale copia di cortesia? allora è fedele o non è fedele copia del cassetto doganale? io spero di sì ma se fosse un no è colpa mia io mi sono fidato di un documento a cui forse non mi devo fidare per cui io vi dico possiamo usare i documenti che ci danno gli spedizionieri solo se sono copie fedeli del cassetto doganale ma per accertarmi che sia una copia fedele come faccio devo andare nel cassetto doganale ma se vado nel cassetto doganale tanto vale che me lo scarichi da solo il ragionamento alla fine è questo e continuo a dirvi è improbabile che voi possiate star fuori da questo cassetto doganale proprio perché poi domani sarà anche l'export poi avete capito che nello stesso cassetto doganale voi potete fare anche domande di ITV potete fare tutte le domande di regimi doganali speciali cioè ormai tutto il dialogo con l'agenzia doganale passerà da lì dentro quindi ormai un'azienda non può star fuori da questo cassetto doganale per me la morale è questa vi piaccia non vi piaccia dovete imparare a entrarci starci dentro e convivere con questo cassetto doganale il futuro del tutto il dialogo è lì dentro ok quindi diciamo che qui ci sono state anche comunicazioni poi dell'agenzia del dogane questi sono i vantaggi che già vi ha elencato Giuseppe quindi non vi annoio ripetendo le stesse cose i singoli che aumentano la possibilità di svincolare le merci una alla volta cioè un singolo alla volta come dicevamo quindi ho una bolla doganale con 40 voci doganali ieri erano le 39 che erano era il massimo adesso arriva a 999 mi se ne blocca una io sblocco tutte le altre merci e rimane solo al controllo doganale quell'unica merce che in quel momento è oggetto di un controllo quindi vantaggi che sono veramente tangibili quindi questo è un po' vedete riepilogo ai fini contabili questo è il documento che noi dovremmo registrare finiva sarà l'unico documento registrabile finiva con un MRN con un codice a barra un QR code ci sarà anche la possibilità di caricare in automatico i documenti se avete dei lettori che vi permettono di leggere questi dati io non so quante import facciate immagino che ho visto un po' i nomi ci sono dalla grande azienda alla piccola alla media azienda con esigenze sicuramente differenti io potrei dirvi anche questo conosciuto 50-60 aziende che oggi sono in difficoltà nell'accesso al cassetto canale o risolvete la questione con un vostro softwareista o se siete disperati vi possiamo anche aiutare abbiamo una persona che è molto brava su questo cassetto canale se vi dovesse servire vi mettiamo in contatto lui è un informatico in un'oretta vi accompagna passo passo basta che vi presentiate con il vostro speed della gara presentante e vi segue passo passo vi fa entrare nel cassetto canale vi insegna tutto per chi fosse disperato abbiamo questa soluzione perché questo softwareista è bravo? perché in realtà ha elaborato ed è già disponibile se qualcuno invece avesse numeri importanti un tool un softwareino che vi permetterà anche di collegarvi una volta sola al cassetto canale con le credenziali della gara presentante poi in automatico con la tempistica che riterrete voi va a scaricarsi tutte le bolle di canale ogni volta che le troverà nel cassetto questo può essere un altro strumento interessantissimo per automatizzare un gioco che altrimenti sarebbe molto manuale un gioco che rischerebbe di essere molto manuale e decisamente poco edificante tanto mentre voi non vedete vi vedo delle domande che appaiono in chat perché abbiamo più di 100 persone quindi provo le vedete anche voi è possibile per un'azienda soprattutto micro piccola delegare la ricezione di gestione XML della bolle di canale al proprio spedizionario di canale sì per me non c'è un divieto da questo punto di vista si può eventualmente fare l'importante è che poi chiunque faccia l'estrazione vi dia copia della bolle di canale fedelmente estratta dal cassetto di canale per darvi la possibilità di fare la registrazione finiva perché poi quello che a voi serve è avere il documento da registrare finiva la registrazione la potete fare solo voi perché registro IVA lo gestite voi aziendalmente vedete questo documento non è neanche un lontano parente della vecchia bolla di canale perché colpo d'occhio è una roba completamente diversa noi avevamo 54 caselle qui ce ne sono sicuramente molte molte meno ma questo è il documento che userete assolutamente solo per la registrazione finiva poi ci sarà la copia di sintesi della bolla di canale la copia di sintesi della bolla di canale invece è il documento che servirà a voi per cosa? per capire che cosa avete dichiarato in dogana perché qualcuno l'ha compilata per voi quella bolla di canale quando fate import come del resto anche per l'export voi conferite dei mandati autorizzate qualcuno a compilare per voi la dichiarazione in dogana quel qualcuno esegue un compito che avete affidato l'ha eseguito bene l'ha eseguito male i dati sono corretti o non sono corretti dobbiamo poterlo vedere e se non abbiamo una bolletta di sintesi non capiamo cosa è stato dichiarato per nostro ordine conto in dogana per cui abbiamo la necessità di controllare per me sì e se trovasse un errore trovasse un'anomalia posso correggere? sì ricordiamoci che c'è sempre la possibilità di fare una revisione su istanza di parte entro tre anni per cui ogni qualvolta troverete un errore rilevante non la virgola fuori posto un errore rilevante potrete chiedere normalmente l'intervento è una revisione d'accertamento della bolla doganale per poter correggere l'errore e la correzione spontanea non produce sanzioni ricordiamoci quindi è sicuramente preferibile che interveniate voi prima dell'agenzia del dogane che se dovesse rilevare un errore importante potrebbe produrre evidentemente una sanzione anche se secondo me il manuale del buon importatore prevederebbe una cosa molto diversa il buon importatore secondo me non deve essere qua a trovare l'errore nel cassetto doganale dovrebbe prevenire l'errore e prevenire l'errore vuol dire mettersi d'accordo con il dichiarante doganale chiedere quelle che tecnicamente noi chiamiamo le prebolle doganali io ti do un mandato ti do le istruzioni compili la bolla sei pronto? me la fai vedere a me che sono l'importatore te la leggo io te l'avvallo io e poi le invii all'agenzia allora così togliamo un sacco di errori e togliamo un sacco di revisioni perché a questo punto correggere una prebolla non è una revisione non l'ho neanche inviata all'agenzia del dogane quindi ho tolto alla fonte l'errore poi la ricontrollo magari anche nel cassetto doganale ma sperando che a quel punto gli errori siano stati in qualche modo estirpati quindi mi aspetto che questo sia una procedura già nota a molti di voi perché soprattutto sull'import io ho paura degli errori perché purtroppo le sanzioni import sugli errori doganali sono molto più elevate di quelle export per cui per me è necessario che preveniate questi errori allora l'unico modo che abbiamo per prevenire è controllarla prima controllarla dopo e a questo punto esterpiamo ogni tipo di errore quindi altra domanda dobbiamo quindi conservare i fini fiscali tutti e tre gli esemplari per ogni importazione ma diciamo che io li conserverai sicuramente sì anche se ovviamente hanno una finalità completamente diversa perché documento ai fini contabili è quello ai fini IVA senza il quale non mi posso neanche dar scarico a quell'IVA che ho versato in dogana quindi documento per eccellenza ai fini IVA la coppia di sintesi è il documento per essere sicuro di cosa ho dichiarato che sia stato dichiarato il dato corretto che io ho in testa e il codice di svincolo ha una finalità completamente diversa mi serve solo per capire se le merci singoli dichiarati sono stati svincolati dai controlli doganali quindi hanno superato brillantemente i controlli o vuoi perché è uscito un canale verde i controlli neanche ci sono stati però in quel momento la merce risulta libera dai controlli doganali quindi il senso è quello vi dico per esperienza che oggi il codice di svincolo non sempre si trova quindi quando vado nel cassetto doganale il codice di svincolo non è sempre presente come terzo documento a sé stante cosa che invece i primi due dovreste trovarli assolutamente sempre potreste non averli trovati nel semestre giugno novembre perché lì le cose non hanno funzionato come si pensava si sperava però oggi se non li trovate inizio a preoccuparmi perché dovrebbero veramente esserci sempre ok allora dal punto di vista del nostra bollettogna quindi invece sono i tre i tre documenti che stavamo dicendo repito che finiscono tali il prospetto sintetico il prospetto di svincolo questo è quello che dovete assolutamente fare poi voglio farvi vedere adesso poi lo vediamo dopo l'agenzia che ci garantisce che sono documenti con piena efficacia sono autentici integri anche se sono dei pdf sono con versioni ufficiali di xml qualcuno mi ha chiesto a suo tempo ma io voglio l'xml io muoio se non trovo l'xml si può trovare sì però con molta difficoltà questo informatico con cui ho mai preso confidenza dice che si possono intercettare nel cassetto di canali xml con molta difficoltà secondo me non ne vale la pena qui non so se Giuseppe mi può aiutare per quanto tempo restano i documenti nel cassetto fiscale tu hai una nozione io credo che ci dovrebbero rimanere almeno si rimangono vita naturale durante quindi per me essendo documenti fiscalmente rilevanti secondo me l'agenzia li conserverà sicuramente per almeno 10 anni penso che non ci sia motivo per poterli cancellare il tema è che dovreste trovarli voi rapidamente proprio perché nel vostro interesse intercettarli più rapidamente possibile per da scarica quell'iva perché altrimenti insomma siete voi in difficoltà nel non poter detrarre quell'iva che a volte sono 100 euro a volte sono anche 100.000 euro e dipende da operazione doganale e ad operazione doganale ok allora quindi il nuovo numero l'mrn questo master reference number l'avete visto appare su tutti i documenti un numero univoco l'abbiamo già visto nell'export contraddistinguerà anche tutte le bolle doganale di import un numero di cui non possiamo fare a meno assolutamente è impossibile fare a meno di questo numero poi ci sono le varie forme di controllo dal resto da questo punto di vista non è cambiato nullo doganalmente cioè saranno cambiati i format ma le vostre operazioni di import sono sempre soggette al controllo doganale al sorteggio come diceva anche Giuseppe non troppo casuale sulle bolle doganali secondo parametri di rischio potrebbe uscire un nessun controllo una visita a merce un controllo scanner tutte queste logiche che mi portano a dire che se la merce è sorteggiata a nessun controllo il codice di svincolo sarà immediato laddove ci fosse un controllo è chiaro che il codice di svincolo tarderà a essere rilasciato perché devo prima superare il controllo dell'agenzia per poter essere libero di circolare con le mie merci superato quello che potremmo definire l'ostacolo doganale per l'importatore quindi l'accesso diretto al cassetto doganale qui dovete imparare davvero a muovervi dovete imparare a entrare nel cassetto doganale quindi nessuno adesso ha segnalato domande particolari problematiche particolari di accesso al cassetto doganale quindi non so a che punto siate singolarmente intesi chi è già dentro chi è fuori quindi non so fino a che punto spingermi nel darvi dei suggerimenti se volete potrei condividervi quello che è la procedura ora qui non essendo mio pc sono in difficoltà perché ok forse ce la sto facendo scusate mi devo spostare devo spero di non fare dei danni da remoto quando faccio dei danni ditemelo perché devo aprire il pdf e quindi si abbasso qui non succede niente spero ok allora chiedo conferma si vede o ho sbagliato la procedura lascio il comando adesso per coinvolgere le persone che sono da remoto vi volevo mostrare la procedura che ha predisposto Confindustria ok grazie quindi adesso vedono tutti allora questa è una procedura che si trova anche in rete predisposta dall'associazione industriale a livello nazionale che essendo anche in rete ormai penso sia di pubblico dominio in cui vi guida passo passo sugli step che dovete seguire vedete guida semplificata per l'accesso al servizio gestione documenti dichiarazioni doganali download il prospetto di riepilogo e fini contabili il prospetto sintetico della dichiarazione il prospetto di svincolo i tre documenti che ci stavamo raccontando stavamo disperatamente cercando ora qui sono tre a me sarebbe anche piaciuto potervi fare una simulazione ma non ci riusciamo nella misura in cui per poter accedere al cassetto doganale dobbiamo entrare con lo speed di qualcuno dobbiamo entrare in dati sensibili di qualcuno per motivi di privacy ovviamente questa cosa non si può fare non abbiamo trovato nessuna azienda disponibile a farci entrare nel suo cassetto doganale per cui non potendo arrivare a questo livello che sarebbe stato bello mostrarvi allora possiamo far vedere che c'è questo indice in cui sono tre fasi sostanzialmente l'accesso con la delega l'attivazione delle varie autorizzazioni e alla fine per giungere a quello che è il download effettivo dei prospetti che è il vostro finale di storia allora qui come si entra vedete tutto nasce il 9 giugno quindi quella data X dettata dalla circolare numero 22 che vi stavo citando dell'agenzia che è nata il 6 giugno il 9 giugno parte il nuovo sistema vi dico che anche il 14 luglio stesso quindi ben un mese dopo l'agenzia del dogane a livello nazionale ammette che qualcosa non stava funzionando perché i primi passaggi hanno funzionato davvero male molti doganalisti che flussavano le bolle doganali dicono qui mi si blocca tutto non riesco neanche a far partire la bolla doganale se non parte la bolla doganale mi si blocca la merce ma non è che posso usare ancora i vecchi tracciati c'era stata un'apertura dicendo vabbè per adesso usa ancora i vecchi tracciati perché non si riesce proprio a combinare molto chi è partito prima sui tracciati sono i Corriere Espressi quindi i Corriere Espressi invece sono partiti molto prima infatti sono sempre i pionieri di questi nuovi giochi adesso li stanno già attivando anche per il mondo dell'export dove io ho visto che i Corriere Espressi che sono un po' dei colossi hanno un po' le spalle forti e a volte impongono anche il loro modus operandi stanno già imponendo ad alcune aziende mi devi dare le informazioni per fare l'export secondo lo schema che ti ho detto io già oggi perché così domani ce lo troveremo nelle bolle doganali già modificate con un'imposizione non sempre gradita da parte dell'azienda perché mi impongono una serie di informazioni secondo uno schema rigorosissimo che qualcuno già sta andando in crisi ma questo mi sta costruendo a modificare anche le fatture perché devo seguire la sequenza che mi impone il Corriere Espresso io vi dico qui lo dico qui lo nego che sono i Corriere Espressi stanno imponendovi di farvi le bolle doganali da soli per poi copiare e incollare il dato senza pensarci più ma questa è un'opinione assolutamente mia personale però credo di essere molto vicino alla realtà dei fatti quindi noi stiamo cercando i tre prospetti ma l'abbiamo capito entriamo nel cassetto doganale come? vedete questi sono un po' quei concetti che vi stavo raccontando il soggetto gestore è la persona fisica che rappresenta l'azienda quindi il legal rappresentante è lui e non può essere altro che lui non entrate come responsabili amministrativi o chiunque voi siate perché non arrivate a nessuna parte dovete entrare e poi con lo speed del legal rappresentante la CNS la CE sono gli unici tre strumenti con cui potete accedere la prima volta una volta entra quindi vedete qui c'è pure scritto accedendo con le normali credenziali al servizio telematico che si usa per gli intra per le accise e quant'altro non fate nessuna strada vi bloccate subito non arrivate mai al download che invece è l'obiettivo che è sperato quindi voi entrate con queste credenziali e dopodiché c'è la fase in cui una volta entrato si va a scegliere il servizio gestire documenti dichiarazioni doganali e lo faccio un po' frettolosa la questione e poi si passa con tutta una serie di videate che andiamo a vedere troppo nel dettaglio però vi spiegano passo passo clicca qui vai di là e vedete qui queste videate possono essere un po' più esplicative devi una volta entrato vai a fare la richiesta autorizzazione le autorizzazioni nazionali va alla consultazione dei prospetti i documenti delle dichiarazioni doganali fa la richiesta direi che questo vi può essere di grande aiuto almeno per chi non è mai entrato dice io ho più palli di cosa devo cliccare perché io ho veramente aziende che sono entrate e poi sono qui davanti alla videata non so più cosa devo fare e questo insomma potrebbe togliervi qualche imbarazzo iniziale e quindi niente questo sono un po' tutti i vari passaggini che dovete fare che vi porteranno poi con una serie di deleghe perché se volete delegare qualcuno ecco la delega è chiaro che un legale appresentante può delegare un responsabile amministrativo il responsabile amministrativo può accedere liberamente al cassetto doganale chiaro che se il responsabile amministrativo domani si dimette si può rievocargli la delega perché è sempre il gestore il legale appresentante con la difficoltà che se cambia il legale appresentante bisogna reimpostare poi tutto il gioco inevitabilmente questo è un gioco che va di pari passo e qui sono tutte le varie logiche delle autorizzazioni potete rivedere anche delegare anche più persone sì possiamo vedere l'elenco delle persone delegate qui non è per forza una sola la persona delegata ad accedere al cassetto doganale potete delegare tutte le persone che il legale rappresentante riterrà volere dopodiché una volta loggati una volta scelte le persone si parte col gioco e quindi si rientra nel portale dell'agenzia nell'area riservata entrerà la persona deputata quindi sempre a questo punto con lo speed poi adesso avete sentito a livello nazionale vogliono cancellare lo speed non so cosa succederà il giorno se mai succederà che cancellano lo speed abbiamo portato tutto sullo speed adesso ce lo tolgono speriamo di no se no non so cosa faremo dopodiché voi entrate nell'area dogane nella gestione documenti dichiarazioni doganali quindi questo è il vostro percorso accedi al servizio questi sono tutti i passaggi chiave che dovete fare e qui siamo al finale della storia il download dei prospetti quello che proprio vi serve dover fare siamo in un ambiente reale possiamo fare due tipi di ricerche come stavo anticipando una ricerca puntuale con l'mrn una ricerca puntuale vuol dire che qui mi sta dicendo digital'mrn sì ma se l'mrn non ce l'ho non so cosa digitare quindi se arrivo qua vuol dire che io ho già in mano almeno una coppia di cortesia dello spedizioniere perché mi deve avere dettato un'mrn puntuale che si abbini alla mia bolla dogane di import se ho quello digito e mi appaiono i prospetti vedremo con i quali posso fare download se non ho l'mrn non mi riesca che fare questo tipo di ricerca come viene chiamata qui puntuale o ricerca aggregata che dir si voglia dove posso andare a puntare un ufficio delle dogane un ufficio che è quello che verso il quale è stata presentata la bolla dogana di import però vedete l'orizzonte temporale massimo sono tre giorni un esempio dal 22 al 24 giugno quindi devo sapere dove è stata fatta dogana e quando è stata fatta dogana altrimenti qui inizio a fare delle ricerche spasmodiche solo sperando che appaia qualcosa ci perdo le giornate in questo secondo me si potrebbe sicuramente migliorare il sistema perché penso che il sogno di tutti fosse entro nella mia area riservata e vedo tutto quello che mi riguarda automaticamente è un sogno che per adesso è tale vedremo se da questo punto di vista si potrà sicuramente migliorare dopodiché se qualcosiasi sia la ricerca che ho attivato con l'MRN puntuale piuttosto che con l'agenzia del organo di riferimento che ha gestito il mio import arriverò a trovare dei documenti posso entrare nel singolo operazione che ho individuato e dopodiché posso procedere con il download del vari pdf perché io qui scarico dei gran pdf ok pdf quello che trovo trovo speriamo di trovare tutto se non trovo il codice svincolo non mi sento particolarmente preoccupato se non trovo gli altri documenti secondo me qualcosa che non va c'è io faccio fatica ad accettare che un'azienda non abbia il documento ai fini contabili perché se non so cosa registrare finiva ma anche la copia di sintesi per me è un documento assolutamente necessario perché il documento di sintesi mi permette di avere un controllo pieno di quello che sono la dichiarazione con tutti i suoi elementi voci doganali origine tutto quello che sono gli elementi sensibili in un mondo di importatore altra informazione leggo le domande il legal rappresentante può nominare una persona o anche più di una sì volontariamente ho già risposto alla signora Monica quindi comunque lo confermo sicuramente più di una persona si può avere la guida con fiducia di accesso cassetto canale sì non so come ma sì faremo in qualche modo avere devo raccordarvi magari con la camera ma per me ormai è un documento divulgabilissimo questo è un commento personale lo saltiamo bravo Simone non so ok è dato grazie comunque allora dal punto di vista dell'import io non sto vedendo domande di nessuno che mi sta dicendo mi sono bloccato qui mi sono bloccato là quindi non sto rispondendo deliberatamente perché non so dove avete trovato delle difficoltà in ogni caso vi dico che se accedete se scaricate i documenti ovviamente non finisce lì questi documenti dovete leggere dovete controllarli dovete verificare se sono corretti per me un'azienda che fa import non può non controllare il documento di sintesi della bolla doganale o la copia di cortesia dello spedizioniere perché lì sono dati troppo sensibili in un import voi dovete pagare i giusti diritti doganali e i giusti diritti doganali almeno per quel che ci riguarda sono giusti nella misura in cui ho individuato bene la base imponibile ho individuato bene quello che è la voce doganale ho individuato bene quella che è la liquida taziaria perché noi sappiamo che almeno per quel che ci riguarda nell'Unione Europea noi paghiamo diritti doganali sui valori CIF sul valore della merce più trasporto più assicurazione quindi la nostra base imponibile non è banalmente la fattura del fornitore la fattura del fornitore più tutti gli elementi del valore come vengono definiti quindi devo aggiungerci trasporto assicurazione valorizzando le merci sino al confine sino al primo varco di confine unionale in questo senso per esempio un dato non innocuo è l'incoter io non so se voi i vostri fornitori li avete abituati bene a indicare l'incoter sulla fattura non so se questi documenti sono così belli così parlanti o non parlanti ma secondo me l'import lo spedizioniere deve compilare la bolla doganale sulla base di un mandato dell'importatore sulla base di una lettera di istruzioni puntuali dell'importatore voi comandate voi dettate quello che serve in bolla doganale sotto la vostra responsabilità io vedo che molte aziende si nascondono dietro lo fornitore si nascondono dietro lo spedizioniere dicendo ma l'ha scritto lui me l'ha detto lui io non c'entro nulla voi siete gli importatori voi rispondete della dichiarazione doganale in tutto e per tutto la dichiarazione doganale se la leggete può essere firmata in rappresentanza diretta o indiretta ma in ogni caso nella diretta ad esempio il doganalista firma in nome per conto vostro qualunque cosa avete scritto l'ha scritta lui ma sotto la vostra esclusiva responsabilità in una rappresentanza indiretta la firma nome suo per conto vostro siete sempre responsabili con lui ma ci siete anche voi voi non siete mai fuori da una bolla doganale non siete mai fuori dalla responsabilità di una bolla doganale di import mai quindi se sono responsabile ma quanto vale che me la guardi bene sta bolla doganale tanto vale che se trovi un errore ne chiedi alla correzione avete visto che una revisione di una bolla doganale se ne avete mai fatta in vita vostra non è divertente perché ci impiegano mesi spesso a correggere tanti particolari espressi che sono espressi in tutto tranne che nelle bolle nelle revisioni di bolle doganali che mai impiegano da uno a due anni addirittura un tempo biblico ecco io tra l'altro spero che il nuovo sistema possa anche accelerare i tempi di revisione delle bolle doganali e su questo ci credo davvero credo che si possano davvero abbattere anche i tempi di correzione di una bolla doganale su questo sono veramente fiducioso lo scopriremo adesso vivendo ma sono assolutamente convinto che dovrebbe essere uno dei tanti benefici della nuova bolla doganale con nuovi tracciati dovrebbe assolutamente permetterci una riduzione dei tempi e se si ricevono ancora bolle doganali di import con citura IEM possiamo ritenere la bolla doganale valida questo chiedo anche a Giuseppe però dopo non dovrebbero neanche più esistere tecnicamente dovrebbe essere una cosa straordinarissima per cui diciamo che queste bollette IEM sono tracciati vecchi che non dovrebbero esistere più in altri paesi magari potrebbero ancora esistere però la logica dovrebbe essere che non dovreste viverle più prima del 30 novembre c'è stata questa concessione di usare ancora i vecchi tracciati record quindi è ancora possibile quello che posso pensare io che se vi gira oggi tra le mani una bolletta IEM possa essere una semplice copia di cortesia magari uno spedizioniere che per rendervi ancora intellegibile quella bolla doganale per paura di darvi una bolla doganale H1 che non l'avete mai visto non l'avete mai saputo leggere ve la trascriva ancora in un formato IEM per dirvi questi sono ancora i vostri dati salienti come l'avete sempre letti da 30 anni a questa parte però faccio fatica a dire che una bolla doganale sia ancora una bolla doganale se messa dopo le ore 9 della mattina del 30 novembre che è il giorno X in cui si ritiene che il sistema ormai funzioni perfettamente e quindi vada in tutta questa direzione quindi sarei più per la negativa per me questa bolla IEM non è più un documento fiscale potrei vivere al massimo con una copia di cortesia questo assolutamente quindi diciamo che sono tutti H1 adesso al di là dei regimi doganali speciali voi dovete vedere delle grandi H1 quando vedete H1 vuol dire che sono i nuovi tracciati record nuova bolla doganale e ogni volta che vedete H1 se anche lo spedizioniere mi desse una copia io devo assolutamente andarmela comunque a verificare nel cassetto doganale io assolutamente questa questa idea che penso non si possa più discutere poi scopriremo adesso nell'export cosa ci faranno trovare io ad esempio sono personalmente preoccupato qui non so se poi Giuseppe ha delle anticipazioni cosa troveremo nel cassetto doganale nel senso che mi preoccupa tutto il mondo delle triangolazioni quando ci sono due operatori come potremo dimostrare l'esportazione questo speriamo speriamo che a breve ci facciano vedere come funziona io spero che l'agenzia doganale a livello nazionale coinvolga anche l'albo dei doganalisti che potrebbero infatti dare anche qualche spunto operativo su quello che le aziende si aspettano di trovare in un cassetto doganale questo secondo me potrebbe essere uno spunto interessante e ovviamente abbiamo vai no se posso dire ma l'ambiente di prova serve per questo cioè perché se noi ci limitiamo a farle quando siamo obbligati non riusciamo neanche a capire quello che effettivamente perché insomma non riesco cioè non riesco proprio a esprimere quello che è la mia necessità l'ambiente di prova dovrebbe essere utilizzato soprattutto per capire quanto le mie esigenze siano comprese perché capite che in un mondo di n noi facciamo delle riunioni con 300 persone tutti gli uffici diversi ogni volta c'era qualcuno che aveva un caso diverso un caso particolare quindi immaginate diciamo dal vostro punto di vista di dover raggiungere non so una destinazione piuttosto quindi sicuramente ecco quello che credo che abbiamo imparato è che purtroppo non possiamo aspettare che sia obbligatorio spese se facciamo come diceva Simone operazioni passatemi il termine strane triangolari non usuali no su cui è difficile come vendiamo chi è l'esportatore se noi siamo abituati a far trovare non so nel campo 44 il cambio merci ceduta da ecco quelle operazioni come le dobbiamo tradurre non aspettiamo che lo facciano gli altri perché potrebbero non arrivarci cioè se tutti quelli che abbiamo le operazioni più particolari astendiamo l'ultimo minuto avremo tutti i problemi perché la bolletta che va in Svizzera insomma di un bene diretto senza problemi insomma faccio fatica a pensare che non passi la come dire la nobilità nobilità si varrà quando si tratta di operazioni più complesse più difficili ti faccio una domanda io nel senso che adesso nel cassetto canale troviamo tutte le bolle doganali italianissime tu hai il sentimento che troveremo anche quelle europee o prima o poi non subito immagino io mi verrebbe da dire spero di no nel senso che le bollette delle doganali andrebbero fatte in Italia ecco da questo punto di vista penso che anche questo sia una come dire un concetto che dovremmo appropriarci perché io vado a trovare nel cassetto doganale di ADM una bolletta francese esatto faccio molta fatica perché poi dovrebbero parlarsi dei sistemi europei cioè però veramente quello vuol dire complicarsi la vita sicuramente dal mio punto di vista sono d'accordo sulla complicazione però la realtà porta qualche azienda purtroppo a subire attività dello spedizioniere che fuori dal controllo dell'azienda va a esploitare poi formalità doganali in altri paesi unionali e quindi inizia la vera caccia al tesoro per andare a cercare quei documenti che probabilmente nel cassetto non si troveranno mai però io credo che il senso della diciamo di questo incontro è quello di entrare diciamo a calcolare il rischio doganale il rischio doganale che non è necessariamente una cosa negativa il rischio doganale è una potenzialità di cui però dobbiamo essere consapevoli come discorso di rinunciare a entrare al cassetto doganale delegando qualcuno che lo faccia per noi ce lo possiamo fare però rinunciamo a gestire quello che è un'esigenza nostra e vi ripeto è come discorso del periodo di prova cioè dobbiamo buttarci nel periodo di prova proprio per cercare di anticipare i problemi perché pure noi come dire gestiamo quello che ci flussate se tutti flussano la bolletta semplice la mia attenzione diciamo diventa diciamo si abbassa perché sembra che tutto vada bene ok allora intanto vedo se una Deborah dice che il problema di audio ma forse è dovuto al fatto che avevano due microfoni contemporaneamente vicini quindi forse è quello che ha disturbato l'audio poi la signora Monica probabilmente puntualmente ci smentisce dice FedEx 27 febbraio 2023 bolla IM con numero MRN quindi in pieno sì esatto quindi per me questa la vivo con una copia di cortesia perché se c'è l'MRN nelle vecchie bolle IM non ci poteva stare quindi la vivo con una copia di cortesia ma è una bolla doganale secondo me flussata secondo i nuovi criteri quindi secondo me questo è un documento che dovrebbe essere assolutamente rilevabile all'interno del cassetto doganale perché con l'MRN abbiamo il driver per entrare nel cassetto doganale e puntare la bolla e scaricarci il documento ai fini contabili il documento di sindesi di quei documenti che ci stavamo raccontando per cui secondo me proprio questo è il caso che in qualche modo avevo ipotizzato io in cui il FedEx di turno ha deciso di darvi una bolla intellegibile per farvela ancora leggere secondo i canoni tradizionali però quella è veramente carta straccia quella è veramente una semplice copia di cortesia il documento registrabile finiva devo andarmela a cercare nel cassetto doganale a tutti gli effetti qui c'è una domanda se non salvatore qui non so rispondere onestamente sulla nuova bolla non esiste più il conto di debito non si trova più il pagamento della garanzia per i diritti doganali commissione a 28 questo onestamente non l'avevo ancora notato quindi non sono in grado di dare una risposta perché non so perché non ci dovrebbe essere il conto di debito e questo semmai mi riservo forse si parla del documento sulla nuova bolla dice generale no in questo momento non siamo in grado di rispondere però semmai poi ci facciamo una riflessione andiamo poi a verificare dove si può rilevare perché il conto di debito non è stato cancellato nella maniera più assoluta quindi deve sicuramente rilevarsi in qualche modo la presenza del conto di debito adesso non ho ancora esperienze così immediate su un tema di questo tipo quindi mi spiace il suo salvatore ma cercheremo poi di dargli eventualmente una risposta e vediamo forse aggiunge qualcosa se no salvatore è basso ci sono problemi con pagamento di diritti doganali esempio dazio pagato la ditta con pago pa relativo a una dichiarazione MRN e questa non si riesce a svincolarla qui siamo andati su un tecnicismo un po' più spinto e non capisco i malfunzionamenti del sistema ok adesso per chi non l'ha sentito dottor Condina parla di un malfunzionamento del sistema che ovviamente speriamo con l'esperienza negativa degli operatori di poter poi risolvere a livello nazionale perché immagino che il problema sia un salvatore sia un problema non solo suo ma comune evidentemente a tanti quindi comunque queste segnalazioni sono sicuramente di aiuto anche per capire dove sono i problemi veri se la mia collega dall'amministrazione ha già modo di scaricare la bolla doganale fatta dal corriere di turno e la registra nel nostro sistema per l'IVA dobbiamo comunque andare nel cassetto digitale e fare il controllo incrociato? ora per me il documento che si registra è quello che scarica la cassetto canale quindi non solo la collega l'amministrazione cosa stia registrando in questo momento quindi immagino ah dal sito ha già modo di scaricare la bolla fatta dal corriere quindi scaricando dal sito del corriere espresso se questa è copia fedele per me non c'è nulla di male il problema è che come faccio a sicure se è copia fedele secondo me un passaggio nel cassetto canale dovrei comunque andarlo a fare per serenità di tutti ma a questo punto forse io lavorerei direttamente sul cassetto canale questa è la mia insomma la mia idea in questo momento quindi vabbè intanto ringrazio tutte le persone che hanno fatto domande perché come avete visto il sistema qualche problema lo dà ed è evidente come su tutte le domande del signor Salvatore se andate già in un tecnicismo che si evidenza qualche malfunzionamento riepilogando un po' tutto quello che si deve sapere per il cassetto canale vi dico che dal 9 giugno al 30 novembre c'è stato questo interregno per cui le bolle doganali IM sono forse bolle doganali ancora validissime registrabilissime senza nessuna controindicazione particolare tra l'altro aggiungo anche che ricordiamoci che da un anno e mezzo circa dall'estate non questa quella precedente è stata abolita anche la franchigia doganale assoluta quindi in realtà non c'è import senza bolla doganale pochi euro che siano c'è sempre la bolla doganale quindi non esiste mai un'importazione senza bolla doganale ci sarà la franchigia dal Dazio ma la franchigia non c'è più la franchigia assoluta lì ma c'è sempre quindi per me è impensabile che voi facciate arrivare una merced extra senza avere una bolla doganale questo ci deve essere sempre assolutamente sempre quindi le bolle doganali le dovete trovare ora quindi nell'interregno 9 giugno 30 novembre sicuramente potevate ancora andare avanti con le vecchie bolle anche perché la stessa agenzia delle dogane l'agenzia delle entrate tutte e due hanno dato la stessa risposta nel senso che di fronte a un sistema che non stava funzionando prima l'agenzia del dogane il 14 luglio poi l'agenzia delle entrate con una risposta a un interpello in cui l'azienda ha detto ma io che vado fiducioso nel cassetto doganale non trovo i prospetti ma cosa faccio adesso non c'è il prospetto ai fini contabili cosa mi registro e la stessa agenzia delle entrate che dovrebbe essere poi l'organo per eccellenza interessato le vostre corrette registrazioni diceva aggrappatevi al documento di sintesi aggrappatevi i documenti che vi passano lo spedizioniere perché in alternativa non c'è altro e non sarebbe neanche giusto che voi non poteste scaricarvi un IVA regolarmente versata in dogana ovviamente quindi questo era fino al 30 novembre poi la comunicazione ufficiale ore 9 della mattina al 30 novembre esiste solo il nuovo sistema quindi il nuovo sistema vi impone di andare nel cassetto doganale quindi per me sarebbe anacronistico uscire qua oggi dicendo non c'è capito niente del cassetto doganale non ci voglio entrare rinuncio perché state perdendo un'opportunità tra l'altro un'opportunità che diventerà un obbligo poi anche per l'export per cui di fatto parito l'ambiente di prova le scadenze di riferimento sono giugno settembre del 2023 in cui si pensa di passare tutto in ambiente reale per cui ormai sono mesi e questi mesi passeranno rapidamente quindi voi dentro il cassetto doganale ci dovete stare per forza c'è un'altra domandona qua avrei una domanda una società non italiana ma UE con rappresentante legale senza speed come potrebbe accedere al cassetto questa è una bella domanda perché qui stiamo entrando in un altro tecnicismo un po' più spinto perché il soggetto UE con rappresentante legale senza speed non avrà lo speed ma forse la CNS potrebbe anche averla quindi secondo me lo speed potrebbe rappresentare un problema ma questa Carta Nazionale Servizi secondo me dovrebbe riuscire ad attivarla il legale rappresentante anche estero quindi credo che sia quella la strada per accedere al cassetto variazione della bolla doganale del 3 gennaio 2023 quindi ancora questo per rettifica importo bolla doganale di importo effettuato il 9 novembre va bene per registrare anche come IM dunque qui c'è un problema perché questo IM del 3 gennaio ci torna strano perché dal post novembre non dovrebbe essere un IM per rettifica importo di bolla doganale di importo effettuato il 9 novembre quindi c'è una bolla doganale del 9 novembre probabilmente in origine qui faccio fatica a incrociare le date della signora Barbara sul quesito bolla doganale il 13 gennaio per rettifica quindi questa è solo una bolla di rettifica forse il 13 gennaio su una bolla doganale tra una R e una IM sì quindi va bene registrare ancora contabile IM e qui adesso dovremmo ragionarci bene perché adesso le nuove bolle doganali la rettifica delle nuove bolle doganali di fatto mantengono lo stesso MRN dell'operazione originaria però bisogna capire se l'operazione originaria aveva un MRN o non aveva l'MRN perché forse il 9 novembre 2022 questo MRN non c'era quindi la signora Barbara comunque precisa solo rettifica quindi è un artico del regime R quindi sicuramente sì allora a quel punto dovremmo ancora poter ragionare con i vecchi criteri quindi insomma diciamo che possiamo confortare la signora Barbara da questo punto di vista quindi ci ha dato una serie di precisazioni altre domande mi scusi no la domanda nella bolla doganale import H1 come vedo il pagamento dell'IVA del Dazzo doganale se pagati dal mittente basta incontent CPT dunque allora questa domanda penso che era parita bene ma è finita male nel senso che faccio fatica a pensare una bolla doganale di import con resa CPT senza pagamento di diritti doganali perché per me ha senso l'esistenza di una bolla doganale H1 nella quale l'importatore non paga i diritti doganali ma solo in presenza di una resa DDP delivery duty paid in cui il fornitore dice pago tutto io diritti doganali di import compresi se la resa è CPT per me CPT cost pay il venditore paga tutto il trasporto la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente ma l'operazione di import sono un problema dell'importatore il quale importatore paga i diritti e se li scarica quindi per me è ammissibile che non ci sia un pagamento di diritti doganali solo in presenza di una resa DDP delivery duty paid quindi non riesco a giustificare un CPT senza pagamento di diritti doganali la signora invece la signora non so se non abbiamo pagato il Dazio non so come sì forse ecco potrebbe essere un prodotto a Dazio 0 per natura potrebbe essere un prodotto a Dazio 0 per natura un prodotto scortato da Euro 1 un prodotto scortato da Tesla di origine preferenziale per il Dazio però l'IVA un altro problema nel senso che faccio fatica a pensare non ci fosse un IVA da versare sì adesso qui entriamo in regimi doganali sofisticati poteva essere merce messa a livra pratica pagamento del Dazio introduzione a deposito IVA allora l'IVA effettivamente non era da liquidare in bolla doganale non so se stiamo fantasticando o meno forse sì la ditta participante dice chiederà chiaramente al corriere che ha gestito l'operazione perché io onestamente con la resa CPT sono molto scettico sul fatto che non ci siano stati diritti doganali effettivamente da pagare perché non è insito nella resa CPT allora forse con un DDP potrei anche pensarlo per molestando che poi anche il DDP mi lascia qualche perplessità perché sono pochi i fornitori che fanno il DDP puro il DDP puro in cui mi pagano Dazio e IVA molto spesso la resa DDP sulla carta è un DDP poi viene snaturato in un DDP IVA esclusa i fornitori di siti pago tutto ma l'IVA che se tra pagassi io da extra comunitario nella UE mi diventa un costo perché non recupero più se te la versi tu in dogana importatore la versi la recuperi e sono un onere finanziario quindi quasi quasi è meglio se te la fai tu questa bolla doganale di import col versamento dell'IVA questo è un po' quello che succede normalmente in una resa DDP che viene poi modificata in un DDP VAT excluded VAT excluded cioè IVA no pago tutto ma l'IVA no però con il CPT non riesco proprio in qualche modo a giustificarlo assolutamente quindi siccome quando si diverte il tempo vola siamo già abbastanza vicini alla fine della nostra chiacchierata perché insomma c'era detto di chiacchierare fino intorno alle 17 altre domande io non devo scappare penso neanche Giuseppe quindi siamo assolutamente a disposizione per ogni tipo di quesito vi dovesse capitare io sono pericoloso perché se mi lasciate parlare io ho anche sette ore di autonomia ce le ho per cui sono sicuro che rimarrò presto da solo però se parliamo solo di novità la novità è questa se vogliamo riparlare di import è ovviamente un tema infinito perché potremmo parlare di voci doganali di elementi del valore ecco una cosa che anzi volevo dirvi non lo stavo dimenticando scusate nel nuovi nelle nuove bolle doganali è sparito il dv1 questo è un documento che non c'è più e questo nell'operatività quotidiana ha senso ricordarvelo perché ogni volta che facevate un import sopra i 20.000 euro c'era l'obbligo di sottoscrivere il documento dv1 di creazione di valore questo documento non c'è più non lo vedrete più però è un documento che ovviamente ha il suo perché e spalmato nella nuova bolla doganale le informazioni verranno comunque richieste ricordo che nel dv1 di creazione di valore vi si chiede se c'è un rapporto di infragruppo c'è una relazione tra fornitore e importatore quindi se un'azienda controlla l'altra una terza azienda controlla tutte e due questo ovviamente per logiche fiscali per logiche di transfer price per cercare di capire se quel prezzo concordato tra le parti è un prezzo normale un prezzo di transazione o è un prezzo calmierato dal rapporto di infragruppo fino a ieri vi chiedevano c'è o non c'è questo rapporto sì o no domanda secca se c'è è influito sul valore esatto con la subordine se rispondi sì mi devi anche raccontare se poi questo prezzo è influito sul valore e se continui a dirmi sì inizio a pensare che devo venire a controllare il transfer price fatto secondo logiche fiscali rigorose naturalmente ovviamente poi vi chiedono altre domande tipo spagate royalties spagate quegli elementi che doganalmente interessano per andare a costruire correttamente una base imponibile perché ricordiamo la base imponibile del dazio è sì valore e merce più trasporto più assicurazione più royalties più stampi sono tanti elementi che devono concorrere a costruire con la base imponibile ed è onere dell'importatore costruire bene la base imponibile se lo costruite male ovviamente ci può essere un'evasione daziaria perché noi paghiamo sempre dazzi ad valorem delle percentuali sul valore delle merci quindi il dv1 non lo vedrete più come documento autonomo provarci che comunque gli spedizionieri vi facciano ancora firmare documenti nel quale vi presentano queste domande perché sono comunque domande utili ai fini della costruzione della corretta base imponibile del dazio poi ricordiamoci che noi paghiamo dazzi ad valorem e la nostra base imponibile del diva è la base imponibile del dazio più il dazio quindi poi se noi sbagliassimo qualcosa sul dazio ci va a cascata a inficiare anche il corretto calcolo dell'iva quindi questo tenendo presente anche qualcuno dice ma io ho la dichiarazione d'intento l'iva me ne frego sì ma se è calcolata male l'hai anche conteggiata male la dichiarazione d'intento quindi l'evasione d'iva c'è lo stesso ma io ho del plafond da buttare è sbagliato lo stesso l'evasione c'è comunque assolutamente quindi per me se vogliamo parlare solo di novità possiamo finire qui ma c'è la domanda a signora Monica per il corso ah no questa è una domanda molto tecnica per questo mi lasciate un attestato questo non so rispondere sì la canale di commercio conferma di sì le slide per me sono le mie divulgabilissime quelle di Giuseppe mi conferma anche lui sì quindi su questo avrete tutto io credo che si possa divulgare anche la procedura di Confindustria tanto ormai si trova in rete quindi non è assolutamente segretata in qualche modo e vi può essere in qualche modo d'aiuto non so se qualcuno ha qualche domanda finale non ne potete già più ditemi voi tutto straordinariamente confuso perfetto da non riuscire a fare una domanda forse c'è una domanda in sala allora aspettate che dobbiamo portare il microfono per fare partecipare anche chi è da remoto allora un dubbio nel caso in cui ci accorgiamo che la bolla doganale abbia un errore quindi noi facciamo la listanza di modifica comunque dobbiamo registrare già la bolla barra nuovo documento di sintesi o dobbiamo attendere che potete già registrare il nuovo documento la bolla revisionata adesso nel nuovo schema sarà lo stesso numero di MRN versione 2 quindi rimarrà tutta la trazza del versione originale modificata quindi non viene messo un nuovo documento stesso documento versione 2 comunque la prima bolla siccome si può registrare seppur contenente l'errore per poi intervenire sull'eventuale rettifica vai però dipende dal tipo di errore perché se l'errore attiene all'IVA nel momento in cui lei se la registra non se la avesse registrato un importo maggiore poi praticamente la rettifica non ha senso perché praticamente l'IVA l'ha già registrata diciamo in un importo maggiore se l'è già portata in detrazione per lo stesso importo quindi se l'errore riguarda la base imponibile perché una base imponibile diciamo maggiore si accorge che ha omesso non so un anticipo e allora sì si può registrare la prima e poi si registrerà anche la la bolletta di la R praticamente la bolletta della revisione se invece si accorge di aver pagato una maggiore IVA perché al contrario hanno ritenuto che la base imponibile fosse maggiore in questo caso nel momento in cui noi facciamo la revisione chiediamo l'attestazione che non abbia già portato in detrazione tutta l'IVA perché lei già la prima IVA se l'è portata in detrazione anche se sbagliata e quindi nel momento in cui l'ha registrata cioè l'aveva pagata in dogana ma se l'è portata in detrazione per intero ok sì la mia domanda era appunto nel caso in cui nella bolla magari era stato inserito il costo del nolo quindi mi cambiava l'imponibile su che era calcolata l'IVA e quindi avevo detratto cioè un IVA in più ecco quindi per quello però se me l'accorgo dopo cioè se io la registro e mi accorgo perché per un motivo o per un altro non ho fatto il controllo prima cioè comunque fino a quando non viene controllata diciamo ovviamente sarebbe meglio non registrarla ecco ovviamente il problema è questo perché per fare una revisione dove c'è un rimborso di IVA abbiamo bisogno l'attestazione che quella bolletta non si è stata già registrata perché nel momento in cui la registra anche la rettifica diventa inutile perché praticamente è un IVA sbagliata ma che si è già portata in detrazione cioè la già corretta portandola in detrazione in maniera invece di 100 ha già portato in detrazione 150 ok va bene chiaro grazie qui qualcuno chiede se sono già delle novità per l'export ma qui forse è meglio aspettare perché fanno tempo a cambiare versione della bolla doganale per cui il consiglio è quello di usare il più possibile l'ambiente di prova entrate in questa diciamo modalità perché poi naturalmente più esigenze avete prima le conosciamo prima risolviamo risolviamo i problemi l'ultima cosa che mi sento di dire prima di salutarci è ovviamente che in import si è soliti fare dogana ai confini primo varco d'ingresso la dogana mi ferma che sia la Spezia Genova Malpensa mi ferma fate dogana ricorda che non è obbligatorio far dogana ai confini si può far dogana anche in una dogana interna quindi tenendo presente come alternativa a volte far dogana in una dogana interna anche in import può dare vantaggi anche di operatività le dogane interne sono più efficienti più rapidi nei controlli le dogane di confine sono ingolfate quindi si può spostare la competenza doganale di confine a dogana interna si fanno quei T1 quelle bolle doganali di cauzione in cui dico non voglio doganare a Genova voglio doganare a Parma si può fare quindi questo non tutti lo fanno non tutti hanno questa percezione ma credo che valga la pena di ricordarlo che si può far dogana dove ritenete voi più opportuno in base a vostre logiche di logistica di trasporto e quant'altro ok non so da remoto certo allora io proprio oggi ho ricevuto la mail dello spedizioniere con la bolla e diciamo la nuova bolla peraltro con la mia MRN e la fattura dello spedizioniere quindi devo attivare tutta la procedura a questo punto da domani anche stasera sono niente da fare cioè proprio sì non c'è da correre non lo fa stasera non lo fa domani però secondo me se questo è un import come sta dicendo che con i nuovi canali deve per forza ormai attivarsi comunque sì non posso fidarmi assolutamente di questa io dico assolutamente no però è chiaro che lei ha ricevuto un pdf quindi è l'estrazione fedele del cassetto canale forse sì lo do al 90% però se dice ho dieci spedizioni nove me la mando l'uno me la mando lei comunque nel cassetto canale si deve muovere quindi comunque lei dentro quel cassetto canale ci deve andare prima o poi e quindi l'altro vale rassegnarsi andarsi subito e iniziare a muoversi in autonomia secondo me ok grazie prego ok allora non so se ci fermiamo qua per stasera buon divertimento a tutti con le bolle canale di import e insomma ci rivedremo per l'export probabilmente sì sicuramente ci rivedremo per l'export grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti